Grave incidente stradale questa mattina intorno a Luna. Una ragazza di 22 anni di Ponte Cagnano avrebbe perso il controllo della sua auto una grande punto terminando fuoristrada. Ora è in rianimazione in prognosi riservata sotto osservazione. Il fatto di cronaca lungo la statale 18 di Capaccio Pestum, zona Ponte Barizzo, direzione Eboli nella vicina frazione di Santa Cecilia, sul Cavalcavia, la giovane da quanto emerso stava facendo rientro a casa dopo aver svolto un corso da sommelier, probabilmente un colpo di sonno la perdita del controllo della grande punto e lo scontro contro il guardrail. Sul posto sono prontamente giunti i carabinieri di Eboli e Santa Cecilia agli ordini del comandante Emanuele Tanzilli. A prestare il soccorso alla ferita sono giunti in pochi minuti le ambulanze della Napoli Soccorso, postazione di Santa Venere medicalizzata con autista soccorritore Antonio Masala ed infermiera Luisa Addevico ed il dottore Giovanni Conte ed il mezzo di pronto soccorso della postazione di Capaccio con l'ambulanza di tipo B. Impegnati anche i vigili del fuoco di Eboli che dopo più di un'ora hanno estratto dalla grande punto alla giovane ferita. Una volta stabilizzata è stata condotta sul mezzo di pronto intervento al vicino ospedale Maria Santissima Adolorata di Eboli. I sanitari del pronto soccorso l'hanno subito condotta nella sala TAC. L'esito dell'apparecchio strumentale ha evidenziato un probabile spappolamento della milza e pare anche delle lesioni al fegato. La degente di soli 22 anni è stata quindi immediatamente operata d'urgenza. I medici le hanno sportato la milza. Secondo le prime indiscrezioni aveva anche un'emorragia interna. Adesso dopo l'operazione perfettamente riuscita è stata condotta nel reparto di rianimazione dove resterà in osservazione per 48 ore con prognosi ancora riservata.